Buongiorno a tutti, siamo qui di nuovo con il nostro consulente finanziario. Buongiorno e ben ritrovati. Riparto oggi da un tema trattato nel risparmiatore asintomatico, ossia lasci i soldi in conto, almeno non li perdo. In questi giorni ho pensato a quello di cui abbiamo parlato l'ultima volta, ma è davvero così? Sì, se anche trascuriamo il rischio controparte, cosa da non fare perché le banche non sono tutte uguali, e in questi ultimi anni lo abbiamo anche visto, il denaro lasciato liquido non è funzionale al raggiungimento dei nostri obiettivi. Inoltre tutta la liquidità non offre soddisfazione né al risparmiatore in termini di rendimento, né all'economia del nostro paese. Ci può sviluppare quest'ultimo concetto? Certo. In Italia la liquidità ammonta a 1.593 miliardi. Cito quella fonte che è il report ABI del marzo del 2020. Si ritiene che oggi questa massa di denaro abbia superato i 1.600 miliardi. Il prodotto interno lordo dell'Italia, al 31 dicembre 2019, era di 1.788 miliardi di euro circa. Questo dato, in seguito alla pandemia da Covid-19, è visto per il 2020 a ribasso di circa un 9%. Vorrebbe dire che il PIL della nostra nazione si dovrebbe attestare intorno ai 1.625 miliardi. In altre parole, la ricchezza degli italiani, ferma sui conti e depositi, coinciderebbe con il PIL nazionale. Lei cosa direbbe in proposito? Beh, direi che è il caso di porsi qualche interrogativo. Direi proprio di sì. Punto primo. L'incertezza, la paura di perdere denaro, come già detto, porta molti italiani a tenere i loro tesore tossiconti. Questo, ancora di più, in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica, che tutti noi ci auguriamo, esserci lasciate alle spalle. Trascurando però una cosa molto importante, che 100 euro di spesa nel 2000, oggi sono circa 142 euro sempre di spesa. Mentre 100 euro in conto, oggi sono circa 116 euro, con evidente perdita di potere d'acquisto. Provo io ad anticiparla il secondo punto. Ma allora, tutta questa ricchezza sui conti e i suoi depositi potrebbe interessare a qualcuno? Malgrado il debito pubblico a gennaio 2020 ammontasse a 2.444 miliardi, devo dire che il risparmio nel corso degli anni è stato più volte tassato. Certamente nei prossimi mesi le difficoltà per l'economia del nostro paese non mancheranno. Ed è per questo che sarà importante non penalizzare il risparmio, ma utilizzarlo come supporto per la ripresa. E io che faccio parte dei Millennials, chi salderà il conto del debito prima o poi? Bella domanda questa. A questa domanda io non posso dare una risposta certa, ma di sicuro posso dire alle persone, ai risparmiatori, agli imprenditori, di iniziare a valutare un attento passaggio generazionale, perché semplicemente non potremmo pensare che tutto sarà come prima. Grazie mille. Grazie a voi e grazie a tutti dell'attenzione.